Maria Luisa Giacobelli, la giornalista coinvolta in un gossip con Francesco Totti, ha ricevuto il tapiro d'oro da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia. La consegna del premio è avvenuta in un momento delicato per la Giacobelli, che ha confermato la sua relazione con l'ex capitano della Roma, Agente. Nonostante le domande sul presunto legame con Totti, la giornalista ha scelto di mantenere il silenzio, alimentando speculazioni e curiosità. Durante la consegna del tapiro, Staffelli ha cercato di chiarire la situazione, citando la frase famosa della Giacobelli, 2 più 2 fa sempre 4. Nonostante le pressioni per rivelare di più sulla sua relazione con Totti, la giornalista ha ribadito il suo silenzio. Questo atteggiamento ha alimentato ulteriori speculazioni e domande sulle dinamiche tra i due. La puntata di Striscia la Notizia di stasera promette ulteriori dettagli su questa vicenda che tiene banco nei salotti italiani. Il tapiro d'oro alla Giacobelli arriva in un momento cruciale, mentre Totti e la sua nuova compagna, Noemi Bocchi, appaiono affiatati su chi, dissipando voci su una presunta crisi. La vicenda si snoda tra conferme e smentite, con il tapiro d'oro che diventa il simbolo di una situazione complessa. La scelta della Giacobelli di mantenere il silenzio non solo la protegge dai gossip, ma crea anche un mistero che attira l'attenzione dei figli.